La storia è una persona, immagino, il sentimento che c'è nei confronti è incredibile. Non penso si spenga, non sono veloce, non penso si spenga mai. Pezzella è un altro argentino che porta la fascia. Il capitano è quello che mi fa piacere per il momento calcio argentino. Insomma, vuol dire che ancora il calcio nel mondo crede nelle nostre possibilità e nella nostra serietà nell'affrontare le sfide. E quello è piacevole, no? Vuol dire che le porte sono sempre aperte nel calcio artico argentino. Non puoi sapere, non so cosa dire, ci sono molti. E piacevole vedere gli argentini che vanno fuori e trionfano. E piacevole vedere anche gli argentini che rappresentano la Tarentina, nel mio caso. E che guardano pure la fascia vuol dire che... Fidesse, grazie a noi, grazie a Pascarella, grazie a me, insomma. Vedere gli argentini qualcuno che ti può rappresentare bene. Bene. Bene, allora...